fate dare le 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 io lo sai in pace a far dottor te lì mi farne dare me lo vuoi niente ah ci sono io lì la vai girò io un po' no per piacere basta giro i voli qua ne basta uno sta buona ma sta buona tranquilla 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 quando you want rosé ah 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 petto rosso ecco ma rispondi rispondi ci sono quelli che mi ingagiano bravo bravo stiamo facendo un video no no non ci lasci no e sono qua e c'è la mamma e papà che hanno le mani e la mia parla un patto uomo per far ripresentare ecco e c'è la sedicola la parte della di qua e lo da inoltre per il volo e la patto di qua e poi aiutate ecco e abbiamo Grazie. Grazie. Grazie a lei la vi saluta, se poi a giro io le parlo e tu anche il corso. Sì, dicono, possiamo venire a telefono. Sono bruttissimi. Ciao! Ciao! E non è neanche toccarli, c'è il papà qua che tira, quindi la mamma mia da una macchinetta, come se fosse... Ecco, questione di vita o di moda. Adesso. Anche a te. Ciao. Dopo, quando vedi? Quando vedi? Allora, mettimi la pasta adesso, perché non posso più. Sì, grazie. Sì. 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 Viva! Che suono che fa il patatino questo telefono, devi fare che ti voglia prendere in giro. Sì. 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 Si mette di mangiare per piacere. È mia massa grosso? No, è va bene. Per piacere, se no, se non ti vuoi farmi, lo via. Il reazione. Sì. Sì. Allora. Sì. 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 Grazie a tutti.